buongiorno a tutte e buongiorno a tutti sono anna bell'antoni insegnante di italiano l2 al cpa fabrizio di andrea di lecco sono eliana gianola insegnante di inglese l'italiano lingua seconda al cpa fabrizio di andrea di lecco benvenuti al nostro corso cpa 4.0 insegnare apprendere valorizzare e favorire nuove competenze digitali il corso aprirà le seguenti aree dig compedu area 3 pratiche di insegnamento e apprendimento area 5 valorizzazione delle potenzialità degli studenti area 6 favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti dopo una presentazione teorica riguardo l'importanza delle nuove tecnologie nell'istruzione per adulti verranno presentati e sperimentati diversi tool per una didattica collaborativa ed inclusiva video discutere come creare interessanti discussioni con interventi video di breve durata prodotti dagli studenti più localizzazione come trovare conoscere farsi conoscere e raccontare i luoghi del mondo tra realtà virtuale e realtà aumentata con avere un ebook per raccontare storie ma non solo raccontare esperienze uniche un'idea una storia o un progetto con immagini interattive vi aspettiamo a presto